Non colpevole, l'ex calciatore del City, Benjamin Mandi, è stato assolto dalle accuse di stupro e tentato stupro. Al vaglio dei giudici fatti avvenuti tra il 2018 e il 2021, la sentenza della Chester Crown Court è l'epilogo di un lungo procedimento che vedeva alla sbarra, con nove capi di imputazione diversi, il campione del mondo 2018 con la nazionale francese. Alla fine è stato assolto da tutti, Mandi si era sempre dichiarato innocente, non gioca una partita dal 2021.